Presentiamo la confezza di Salsa Cubana, molto simpatica, allegra, su musica dell'orchestra Puerto Rican Power. A presentarci è il gruppo degli Evi di Vicenza, sede Ritmo Metropolitano House, capitanati dai maestri Damiano e Jessica. Anche per loro è la prima uscita in pubblico, nessuna pista importante come questa di Arcugnano, quindi grandissimo pubblico, incoraggiamoli con un fortissimo applauso, Salsa Intermedio di Salsa Cubana, Vicenza! Salsa America, Bones Company! Pensate, sono 14 coppie, hanno fatto un bellissimo lavoro questa stagione, loro hanno creato un fantastico gruppo, e adesso li vedete in azione, Salsa! Un, due, un, due, tre, e... Salsa Un, due, un, due, tre, e... Un, due, un, due, tre, e... 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 E io voglio che tu vienes a me, che me des un carillito mi amore Si che me viene de besitos y masi, perché tu eras la nena che io E io voglio che tu vienes a me, che me des un carillito mi amore Ando buscandome lo che il mare, devono le mie le mie in i miei lugares E io voglio che tu vienes a me, che me des un carillito mi amore E io voglio che tu vienes a me, che me des un carillito mi amore Un fortissimo bravo solo che se lo meritano queste 14 coppie in questa fantastica dimostrazione di quella che era salsa cubana, un grandissimo lavoro durato da mesi, stasera siete stati fantastici, sulle mani! Bravissimi, 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 bravissimi!